Rieccoci insieme per una nuova puntata di Impresa e Territorio. Oggi vogliamo farvi conoscere il team delle Aquile Blu di Trentino Sviluppo, i manager dell'innovazione, un gruppo di dieci professionisti tra cui ingegneri industriali, elettronici, nucleari e meccanici, ma anche chimici industriali ed esperti in finanza e marketing dalla grande esperienza e capaci di avvicinare le aziende ai temi dell'innovazione e del trasferimento tecnologico. Una delle ultime aziende che si sono avvalse di questo servizio è l'officina di Protesi Trento SPA di Cagliano, in sigla OPT. Ascoltiamo l'amministratore delegato Cristina Cristofolini. È un'esperienza che ci ha dato molte cose positive, un'esperienza che abbiamo fatto di gruppo assieme e un'esperienza che ci ha fatto pensare e soprattutto ci ha fatto crescere nell'approccio verso i mercati esteri. Noi avevamo già in azienda un approccio al mercato estero, però siamo riusciti proprio grazie al progetto Aquile Blu e al dottor Tecilla a finalizzare meglio i nostri obiettivi. Qualche numero per rendere l'idea di come lavorino le Aquile Blu. Dal 2006 ad oggi i manager hanno visitato oltre 315 aziende, effettuato 239 audit approfonditi. Sono state portate avanti 59 collaborazioni tra aziende ed istituti di ricerca della provincia di Trento, 20 con centri di ricerca nazionali. Ma ora sentiamo una delle dieci Aquile Blu di Trentino Sviluppo Giovanni Tecilla. In OPT ho trovato una realtà che ha l'avanguardia nel proprio settore di riferimento. È leader in Italia e ha grande opportunità di crescita sui mercati esteri. Opera in un segmento di mercato molto piccolo e quindi è obbligo per questa azienda aprirsi sui mercati esteri per la propria crescita. Ho cercato di portare le metodologie più all'avanguardia e soprattutto la mia esperienza di azienda. Esperienza, professionalità, concretezza. Tutte qualità racchiuse nel team delle Aquile Blu di Trentino Sviluppo. Io per oggi ho concluso. Vi do appuntamento alla prossima puntata di impresa e territorio. Adesso la nostra scheda. Aquile Blu, senior manager di primissimo livello, di cui Trentino Sviluppo si avvale per avvicinare le aziende al mondo dell'innovazione e della ricerca. Attualmente il team è composto da 10 professionisti, tra cui ingegneri industriali, nucleari, elettronici e meccanici, chimici, industriali ed economisti e aziendali. OPT, officina di Protesi Trento, azienda con sede a Cagliano, specializzata nella produzione di tavoli operatori. È una delle oltre 300 aziende che si sono avvalse della professionalità e delle competenze delle Aquile Blu di Trentino Sviluppo.